Una stagione teatrale ricca e articolata per il teatro Area Nord di Piscinola, che quest'anno ricomincia le attività sotto le insegne di un patto artistico fra le compagnie Libera Scena Ensemble e Interno 5, unite nel percorso dei teatri associati di Napoli, con la conduzione artistica di Lello Serao e Ilenia De Falco. Il sodalizio inaugura un triennio di programmazione col progetto delle residenze multidisciplinari, sostenuto dalla regione Campania e dal Mibact. Succederanno tantissime cose qui al teatro Area Nord. Intanto riapriamo con un orizzonte di prospettiva un po' più ampio, perché l'accordo col comune ci dà il respiro un po' più lungo e quindi questo sicuramente facilita anche la programmazione. Ci sarà intanto subito il progetto Tanoff che riparte dopo un anno di fermo con un programma molto ricco, con moltissime iniziative, soprattutto realizzato con il concorso dell'Associazione del Territorio, che era uno dei pilastri su cui abbiamo costruito questo progetto. Voglio pensare a creare un percorso formativo che poi sfoci immediatamente in qualcosa di concreto, di serio e di professionale, perché vorrei in tre anni costruire una nuova compagnia di giovani da portarmi dietro. Parte subito la sezione Tanoff con un ricordo di Danilo Dolci, a seguire fra le altre cose un omaggio a Frida Calo, il misterioso rito della Cabadora, il barone rampante di Calvino e il cineforum Pupille e Papille con una selezione di film accoppiati a degustazioni di cibi cucinati sul posto. Nella stagione del teatro edificante che comincia a novembre, grande spazio alle proposte della cosiddetta nuova drammaturgia. Noi facciamo parte del progetto Inbox, quindi rete di sostegno per il teatro emergente e ospiteremo lo spettacolo Amaleto FX di Vico Quartomazzini. Riteniamo che esistano nuovi drammaturghi che vanno sostenuti, vanno proposti. Abbiamo appunto fibre parallele, abbiamo Vico Quartomazzini, De Florian Tagliarini. Importante è l'accordo raggiunto col Comune di Napoli che assegna per un minimo di sei anni la struttura pubblica a libera scena ensemble, stabilizzando le prospettive di lavoro per un gruppo di artisti che da oltre un decennio mantiene vivo questo avamposto culturale ai confini della città. Il Comune ha concluso un accordo per dare al TAN una sede per molti anni ancora. Il TAN ovviamente tra mille difficoltà si è impegnato a mantenerla e soprattutto continuare a svolgere qui un lavoro prezioso e straordinario di un livello culturale ed artistico che ha poche possibilità di paragone credo in tutto il paese e soprattutto a svolgere una grande funzione di punto di incrocio e di aggregazione di molteplici esperienze associative, territoriali, diffuse in tutto anche il territorio cittadino e tante belle straordinarie cose come per esempio le residenze artistiche, laboratori teatrali, cinema e danza. L'intera programmazione aderisce al circuito Politeatro promosso dalla rete dei piccoli teatri metropolitani.